Ma guardate che spettacolo, fa un bel linchino Alessandro è il futuro batterista di Leggera Electric Folk Band Vai accanto al maestro Dario Rossi Sta imparando, sta imparando e piano piano ce lo alleviamo E viene su come che è un amore Allora la prossima canzone è in realtà un'anteprima che vi faremo ascoltare Perché sarà poi in un videoclip che uscirà il 13 di settembre a Firenze